In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Giraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con le catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più ad omarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio non tormentarmi. Gli diceva infatti, esci spirito impuro da quest'uomo e gli domandò, qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono. Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono. Portarono la notizia nella città e nelle campagne. E la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse Va nella tua casa, dai tuoi. Annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli Quello che Gesù aveva fatto per lui E tutti erano meravigliati. Lo scenario del primo atto del Vangelo Potrebbe certamente dare spunti utili A qualche regista di questi serial horror Che così piazzano oggi i nostri adolescenti Una barca proda in una terra abitata da tombe e da sepolcri Gesù e i suoi discepoli scendono e odono grida di lamenti Un uomo dalla forza sovrumano urla e si percuote con pietre Improvvisamente, visto Gesù da lontano, corre verso di lui Immaginate lo spavento dei presenti Qualcuno scappa, altri incitano a scappare Gesù invece rimane fermo Da subito non vede in questo energumeno una minaccia per la sua vita Anzi, legge la fragilità di un uomo solo e solitario Vittima di un abbandono della comunità E in preda ad una rabbia disperata Che scaglia contro se stesso Condannandosi all'autodistruzione Così la corsa si arresta ai piedi del maestro Gesù non perde la serenità e lo minaccia Esci da quell'uomo Arriva così il secondo atto La liberazione dal demonio E qui non posso non andare all'esperienza dei primi anacoriti I quali sceglievano questi luoghi deserti e impervi Molto simili allo scenario del Vangelo Proprio per combattere il demonio Volevano mantenere alto l'ideale che fu dei primi martiri I quali hanno dato la vita per Gesù Ma al di là della spinta idealistica L'anacoretismo non ebbe un gran successo A parte qualche figura di santità I più erano maltrattati dagli spiriti maligni Si racconta che i demoni Arrivavano anche a dominare alcuni monaci Tanto da possederli Le storie monastiche descrivono i sintomi più disparati In queste possessioni Monaci che arrivavano a mangiare le proprie fece Altri che si graffiavano così in profondità Da procurarsi delle ferite Altri ancora che venivano sbattuti di qua e di là E spinti al suicidio Pochi in realtà vincevano questa lotta Perché il vivere in solitudine Non è l'ordinario della vita cristiana Se non in eccezioni significative Come ad esempio Sant'Antonio del deserto Costui si ha combattuto i demoni E ha permesso che Gesù li vincesse E allora sentite cosa accadeva nel sepolcro Dove Antonio il santo ha vissuto In quella notte i demoni fecero tanto rumore Che tutto il luogo sembrava scosso E come se essi stessi avessero abbattuto Le quattro pareti del sepolcro Parvero penetrare attraverso le mura Assumendo l'aspetto di fiere e di rettili In breve tempo tutto il luogo fu pieno di fantasmi Di leoni, di orsi, di leopardi, di tori Di serpenti, di aspidi, di scorpioni, di lupi Ognuno di essi si comportava secondo la figura che aveva assunto Ma Antonio, colpito e pungolato da quelli Avvertiva anche più forte il dolore del suo corpo Tuttavia giaceva impavido e sveglio Gemeva per le sofferenze del corpo Ma lucido nella mente Quasi schernendoli Diceva loro Se voi aveste qualche potere Sarebbe bastato che uno solo di voi venisse Ma poiché il Signore vi ha tolto la forza Voi per questo cercate di spaventarmi col numero Segno della vostra debolezza È il fatto che voi imitate le forme dei bruti Il Signore allora gli venne in aiuto Alzati gli occhi in alto Vide il tetto quasi aperto E un raggio di luce scendere fino a lui I demoni tosto scomparvero Il dolore del corpo cessò E la casa apparve di nuovo intatta Antonio si accorse dell'aiuto Trasso un lungo respiro E liberato dai dolori Interrogò la visione apparsagli con queste parole Dov'eri? Perché non sei apparsa fin dall'inizio Per liberarmi dalle sofferenze? E una voce giunse a lui Io ero qui, Antonio Ma aspettavo per vedere la tua lotta Come nel Vangelo È sempre Gesù Che alla fine vince la legione di demoni Che si abbatte anche sulla nostra vita M Grazie a tutti.